Ultimati i lavori di sistemazione idraulica e taglio della vegetazione del torrente Strona che attraversa l'abitato di Cossato, si parte con un altro lotto, che vale in totale 560.000 euro. Sarà finanziato anche questa volta a livello regionale ed offrirà uno slancio per la sistemazione di due punti nevralgici. Ancora un altro tratto del torrente Strona, sempre per interventi di bonifica e messa in sicurezza, per un valore di 300.000 euro. Ma non solo, anche il rio Valle Lunga di frazione Castellengo per un valore di intervento di 200.000. I lavori saranno finanziati con un contributo erogato da Regione Piemonte sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea e permetteranno di movimentare il materiale depositatosi nel tempo in alveo con un evidente miglioramento del deflusso delle acque e che renderà maggiormente sicuro il tratto di torrente che attraversa una delle zone più abitate della città. I lavori assicureranno anche il consolidamento di infrastrutture presenti in alveo, muri di sostegno, soglie, la rimozione della vegetazione ed invasione presente. In arrivo anche altri 60.000 euro per il ripristino di un'arteria compromessa a seguito di una frana, sempre in zona Castellengo. Intervento atteso da tempo.